Ciao ragazzi, oggi vi mostrerò come trasformare un cantiere in un giardino in un solo giorno con il T450 e tre diversi accessori. Per questo tipo di lavoro ho scelto il T450. Per me è una buona stabilità, una buona pressione sul terreno ed è abbastanza potente da far funzionare tutti gli accessori di cui ho bisogno. La prima cosa da fare è spargere tutto il terreno intorno alla casa. Il livello finale è qui e dall'altra parte c'è la ghiaia. Lo spargeremo rapidamente con l'abbenna. Tutto il terreno è stato spalmato con l'abbenna. Il prossimo passo sarebbe il rotocoltivatore perché alcune parti dietro di me sono ancora dure, quindi dobbiamo rendere il terreno sciolto. L'accessorio migliore per questo lavoro è il rotocoltivatore. Ora il terreno duro è alentato e devo livellare il giardino e separare le pietre dal terreno. L'attrezzo migliore per fare questo lavoro è il rastrello motorizzato. Quindi il giardino è livellato ma ci sono ancora molte pietre e detriti in giro. Per raccoglierli userò il rastello raccogliibietti. Come avevo detto dall'inizio, una macchina, tre attrezzi, un giorno e il giardino è pronto per la semina dell'elva. Grazie per aver guardato. Lasciateci un commento e vi auguro buon giardinaggio.